la buonasera a tutti siamo a mestre siamo a casa di salvatore d'anna da loro abbiamo appena finito di installare un intervento in superbonus 110 abbiamo installato nello specifico un impianto fotovoltaico da 8 kilowatt montando 20 pannelli hyundai 400 con 20 ottimizzatori di potenza installati su tre diverse falde abbiamo inoltre messo un inverter da 6 kilowatt della huawei un doppio sistema d'accumulo luna 2000 per una capacità totale di 30 kilowattora d'accumulo una wall box per la ricarica di auto elettriche nello specifico una wall box tesla e il trenante di iniziativa è stata la sostituzione della calda esistente con un più performante sistema ibrido con caldaia condensazione e pompa di calore da 9 kilowatt della immergas modello mezzi scombo allora come prima cosa vi chiedo se siete soddisfatti dell'intervento che abbiamo realizzato certamente molto soddisfatti ditemi una cosa quando ci siamo incontrati ormai qualche mese fa anno è stato quasi un anno vero ok eravate sicuri di arrivare a questo risultato mi ricordo la prima volta che ho detto ok vengo a dopo aver fatto la consulenza perfetto vengo e firmiamo il tutto e ovviamente salvatore dico ma anna gli hai detto tutto quanto sì quando siamo arrivati fa cos'è che dovrei firmare ok va benissimo infatti ho detto leggete tutto rifletteteci l'importante che siete convinti e sono contento di testimoniare questa cosa proprio perché è fondamentale ci deve essere la fiducia perché un anno passare a lungo quindi ancora dei lavori a lunga ammirare anche il fatto che sei venuto più volte perché io ero dubbiosa ma questo è il nostro lavoro è una sfida quotidiana ogni giorno far capire alle persone che lavoriamo in maniera seria qualche volta ci riusciamo qualche volta no però insomma quando ci riusciamo e poi le persone ci testimoniano il fatto che magari non erano titubanti ma che adesso sono soddisfatti del lavoro allora cc ovviamente molto soddisfatti bene 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 ok allora il l'installazione è avvenuta in tempi brevi quattro giorni in tutto ok installatori sono stati puliti ordinati ok ok bene hanno trovato la posizione giusta per le batterie che so che si tenevi particolarmente perché gli spazi erano stretti sì sì siamo riusciti a fare il lavoro perfettamente dai bene adesso tramite l'app di monitoraggio potete controllare i consumi ok è semplice da utilizzare semplicissima ok bene è vero quindi arriva qualche messaggio google translate bene allora voi sapete che adesso l'energia in eccesso che andrete a produrre vi viene anche retribuita tramite il ritiro dedicato quindi tramite la documentazione che avete compilato per il gse per cui soprattutto nei mesi da primavera autunno perché nel mese invernale a mestre sappiamo che sovrapproduzione difficilmente ci sarà e vi verrà retribuita quindi sarà anche un piccolo rimborso economico esatto che viene dato dal gse ci consigliereste sì vi abbiamo già consigliato ok bene dal punto di vista burocratico è stata una cosa complessa per voi ok quindi non ci sono stati problemi no no assolutamente anzi fatto solo film e basta lei avete qualche consiglio da darci qualcosa in cui possiamo migliorare che vi aspettavate di diverso ok va bene quindi vuol dire che quello che avevamo promesso è stato effettivamente realizzato bene ottimo adesso a breve vi verrà restituita anche la cauzione del 10 per cento dove avete pagato alla firma del contratto sapete che per qualsiasi cosa un colpo di telefono whatsapp e sono a disposizione vi ringraziamo per la fiducia accordata godetevi l'impianto grazie mille ciao